in buona sostanza con Orban e il MES. Prima con i polacchi, poi con la Polonia, poi la Polonia ha eletto un governo che adesso vi fa comodo e la Polonia è sparita dai radar. Queste sono le tre cose, ma sto cercando di fare un ragionamento più complesso. La campagna elettorale è finita, forse in questa occasione ci saremmo potuti permett... Signori, sto finendo, perché è difficile tra l'altro quando si ha difficoltà con la voce. La campagna elettorale è finita. Apriamo una nuova legislatura europea molto complessa, in un contesto estremamente complesso. Si può decidere di continuare a esaurire tutto con i quattro slogan della Meloni, amica delle persone sbagliate, la Meloni, non far la cheerleader di quelli a cui dovrebbe fare la cheerleader, solo che io non penso che un Presidente del Consiglio dei Ministri debba fare la cheerleader né dell'uno né dell'altro. Penso che debba difendere il suo interesse nazionale e questo sì vuol dire camminare a testa alta. Non l'ho visto accadere molto spesso, sicuramente lo vedo accadere adesso e penso che anche per questo, perché c'è un governo capace di camminare a testa alta, di dire quello che pensa, di farlo lealmente, di farlo senza sotterfugie, di farlo senza andare in giro con il cappello in mano. L'Italia anche in questa partita porterà a casa quello che le spetta, indipendentemente dal fatto che io, come sempre, dirò quello che penso. Grazie.